nell'episodio precedente oggi non perderò oggi non devo perdere oggi non devo perdere cazzo bene ragazzi e benvenuti con questo nuovo Peace Leaks il secondo quello prima è andato molto male abbiamo perso abbiamo perso la Samoa ma me lo sono subito ricomprato intanto qui abbiamo oggi contro X-Ronix e come terza squadra vediamo che ha Viver Pera grazie, grazie vi ricordo soprattutto di passare sulla pagina Facebook perché è lì che poi farò i vari estrazioni del Pink Slips quindi mettete mi piace sulla pagina Facebook e se vi va passate anche nel sito se cercate i crediti a basso prezzo passate nel sito che c'è in descrizione perché ha veramente di prezzi stracciatissimi e cliccando da quel link avrete anche il 5% di sconto non rompere il cazzo con ha ha venduti perché non ci siamo venduti niente non prendiamo una lira ci danno soltanto dei crediti per poi mettere in pali i giocatori contro di voi basta detto questo andiamo subito avanti con la partita e siamo pronti vediamo la sua squadra attenzione vabbè è una squadra buona buona c'è un bel centrocampo un bel attacco forse un po' carente in difesa no non è vero forte pure in difesa vabbè comunque noi oggi dobbiamo vincere e vinceremo e ricordiamo che in palio c'è KK If KK If sì e niente io l'ho dovuto mettere in campo appunto perché l'ho messo in palio questo parte subito col baggone eh come in te vergogni palle e mezzo c'è Benatia c'è Chiellini c'è sto cazzo dai oh esci 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 no così no così no così no così no così no così no no rigori di cosa ma rigori di cosa addio no 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 non ci posso credere rigori di che rigori di che cosa no non ci voglio credere vai su no perde pure KK tanto perderemo anche lui c'è un cazzo da fa oh dai su ma vaffanculo va prendi pure il giro prendi pure il cucchiaio mi sono dovuto prendere prendi non demordiamo dai e maicon dai e maicon dai che lo andiamo a far subito dai così metti la dentro c'è Kevets Kevets di testa subito pareccio subito all'azione dopo e dai così eh morco un piano usando tu metti dai un po' tutto a vari palla per Balotelli oh passa a mezzo Balotelli ancora Kayekon 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 ooooo cos'è Kayekon mamma mia mamma mia 2 a 1 c'è il 2 a 1 e l'altra volta l'avevo l'avevo preso pure il culo e molti sono anche incazzati ma io reputo Kayekon un gran giocatore era era la l'incazzatura del momento avrei preso in giro anche Totti quel giorno per quanto ero incazzato non me ne volete quindi amici napoletani Kayekon è un gran giocatore e l'ho appena dimostrato dagli così vai ripartiamo Kaka parla del Kayekon Kaka Kayekon cioè oddio Kaka vattene in porta manda lui a più veloce manda Tevez Tevez no ma che cosa ha preso che cosa ha preso no vai così ripartiamo Tevez guarda Balotelli che parte andiamo a farlo andiamo a farlo Balotelli sto cazzo di Jack sto cazzo di Jack guardate ste cazzo di angoli quanto mi fanno paura mamma mia dai che questa ce la portiamo a casa non dovevo dirlo attenzione erosici stai attento a Neymar stiamo attenti non ci posso credere dai che questa ce la portiamo a casa non ci posso credere all'ottantottesimo no dai ma che cosa è su dopo una partita dominata oh dominata dai Tevez su tempi supplementari rigori dai cagà dai cagà pensaci te è partito Balotelli ti prego di me che non è fuori gioco metti in mezzo c'è Tevez il tiro no no non ci posso Asamoa Asamoa ti prego e parca troia ma come fai non segna sto non ci posso credere oh non ci posso credere la sfiga niente namaste rigori dai Balotelli io lo sapevo io lo sapevo lo sapevo dai vai così parata Tevez darie c'è c'è Neymar maccia la miseria Kakà Riccardo Kakà ancora Kakà gol vai così guardate sto cazzo di Kakà come li vanno a finire si buffon paratone vai così vai Asamoa ah questa la sbaglia questa la sbaglia no sciattivo tu re ecco un'altra volta sto cazzo di mulizzo sto cazzo di cucchiaio Kakyecon sbaglia pure lui mamma mia mamma mia come l'ho vista brutta Fabregas si vai così Kakà rimane da noi rimane a casa torna a casa Kakà gran partita comunque ringrazio tutti quanti ringrazio X non mi ricordo manco come ti chiami ringrazio Tor Pagnotta ecco e e niente noi ci becchiamo al prossimo X-Liz ricordate di passare sulla pagina Facebook è tutto bella a per e Grazie a tutti